allora benvenuti a questo secondo seconda parte di questo episodio che abbiamo diviso per non asfissiarvi con robe lunghissime che tanto rompono soli coglioni quindi tanto per cangià tanto per cangià come si dice una genova in un orribile pronuncia del mio meraviglioso dialetto ovviamente mi sono dimenticato allora quindi parlavamo di quanto è bello avere i 45 giri quanto è suonarli quanto è bello anche fare i party in cui la gente appunto si porta ognuno i suoi 45 e poi si suonano e chi vuole li scambia chi vuole se li riporta indietro tutti quanti è un po come succedeva negli anni 80 per quelli che si scambiavano i programmi i giochini sui dischetti no adesso non ce li ho dietro succedeva che tutti i piratoni la gente che si copiava i programmini che proteggeva e copiava i programmini per amiche per atari andava ai parti con i dischetti e si mettevano tutti li a scopiazzare a più non possa beh adesso qui non si parla di scoppiare si parla di fare dei party dove anziché ballare o si può anche ballare per arrivare alla gente suona i suoi 45 giri io penso che in italia dovreste farlo cioè al di là di quello che fa next to one che se non sbaglio mette in palio una gara dove la gente porta i vini scusate sono impreparato non la so bene questa cosa porta i vinili è quello che fa la base più bella con quei vinili si beca se vince anche i vini degli altri beh questa è una bella è una bellissima idea però sarebbe anche bello farne una in cui molti portano i loro 45 giri e cercano di far ballare la gente coi 45 giri che hanno sarebbe bello appunto dei 45 di soul di funk ma ci sono anche edizioni limitate di pop e non è che ecco e si fa un proprio bisogna tenere la gente in pista il palio adesso magari potrebbe essere i 45 degli altri ma magari se c'è gente che porta dei 45 rari mai non c'è una voglia di regalarli ecco quindi magari il palio potrebbe essere qualcos'altro vi do quest'idea perché io non ho i soldi nel tempo di organizzare questa cosa di fatti per quello che ho qua non ho una lira ma proprio c'ho una marea di debiti e non ho assolutamente arrivo alla fine del mese così ma il sacrificio lo faccio anche per i miei bambini che sono loro e tutti quelli che mi è il mio bello studio che cerco di mantenermi però ovviamente sarebbe una bella idea se per caso fate questa cosa invitatemi mi piacerebbe suonare anche a me qualche bel 45 di funk provvisto che ci siano dei bravi breakers che si divertano perché se questa musica non si balla che goduria c'è detto questo essendomi quindi fatto promozione su una sciocchezza una del tante sciocchezze che mi piacerebbe fare ma I can't do it è importante anche aggiungere sui 45 giri che rappresentano un universo filosoficamente parlando rappresentano un universo a sé stante il 45 giri è come un piccolo mondo limitato che gestisce in uno spazio ristretto di sei minuti tre minuti a facciata due minuti e cinquanta facciata tutto un mondo chi si compra al 45 giri o meglio chi se lo comprava godeva a vivere in quel orizzonte ristretto per tre minuti e poi di nuovo di nuovo di nuovo e si cambiava 45 giri però non era come ascoltare un mp non è come ascoltare un mp3 perché c'era l'oggetto fisico che si guardava e quindi la bellezza stava ad esempio anche che ne so questo ad esempio è un donna summer ed è un disco giapponese l'edizione giapponese di last dance che è il pezzo che fa un po da title track su scusate da end track nel film di grazie a dio venerdì che in realtà è un album triplo con due lepi dentro è un mix speciale dove c'è je t'aime ricantato da donna summer e prodotto da georgia moroder no il famoso classico di jane birkin e questo invece è bello perché prendi l'edizione giapponese e poi trovi la casablanca records no dove c'è appunto la stance che è una una licenza che la casablanca ha fatto a suo tempo ha un etichetta giapponese qui sembrerebbe dalla copertina tramite distribuzione dell'rcii victor comprato anche questo all'exchange un grandissimo pezzo a me piace molto donna summer mi piace molto la disco beninteso l'house molto di meno anzi moltissimo di meno purtroppo ma sapete noi vecchi e tra altre cose questa edizione giapponese suona benissimo quindi è una cosa stampata lì è una cosa licenziata col master americano perché ovviamente avranno gli avranno dato il master per fare questo ma è stampata in in giappone con la label della casablanca e perché è interessante perché è proprio bello come oggetto sentirlo e guardarsi la copertina poi gli anni 70 sono anche particolari perché hanno tutta una visione forse anche per la qualità delle macchine fotografiche che era più scarsa non c'era il digitale è tutto un po' no è tutto un po' confuso le atmosfere sono molto mild sono molto soft tutte queste luccione rosse o verdi da discoteca che fanno un colore pieno ma anche tutto sommato poco definito molto poco cristallino e quindi c'è gente che ha parlare di questi colori il diavolo c'è altra gente come me a cui piacciono ci sono dei grafici che sono venuti qua e si sono rifatti gli occhi con le copertine di alcuni dischi naturalmente ce ne sono altri che sono molto becere però il mondo grafico anche degli anni 70 unito al mondo dei 45 giri da in un certo senso un suo ha un suo aroma particolare tra le altre cose mi venne detto che in italia esistono delle ottime fiere dove si vendono parecchi 45 giri e ci sono delle cose come queste a store and the potential che io compra in italy che questo è soul northern soul primi anni 70 tra virgolette northern soul viene chiamato così dai collezionisti inglesi perché quel soul che si è sviluppato a detroit negli anni 60 perché detroit è una città del nord america però il genere molto diverso dal soul fatto a sud in america perché è caratterizzato da un beat molto veloce e da sonorità molto pop è il precursore del pop reale e in un certo senso trasmette quella continuità ai dischi di soul degli pop dei dischi soul degli anni 50 fino all'era in bia attuale l'era in bia attuale pop tecnicamente ma non c'è niente da scandalizzarsi il northern soul e adesso qui ci saranno i collezionisti in northern soul che mi tagliano la gola ma ci sono parecchi pezzi di northern soul che sono effettivamente hanno sonorità molto pop a meno che non si voglia rivedere poi cos'è la definizione di pop e per cui la musica nera come il northern soul e northern soul e quello che hanno fatto i bianchi dopo è pop però effettivamente c'è da dire che i bianchi hanno proprio copiato tutto si prendano i take that che sono il tipico prodotto inglese da cui viene fuori da cui è venuto fuori robbie williams e gary barlow che sono il gruppo che ha copiato di più lo stile northern soul e hanno venduto tanti dischi proprio anche a tanta gente che stava a metà cioè che aveva sui 30 40 anni proprio perché questa gente era memore della grande tradizione di che c'è di northern soul in questa nazione cioè la tradizione di importare i dischi dall'america anche dischi molto vecchi o dischi anche nuovi però con quell'atmosfera soprattutto in 45 giri 45 giri stampati in quantità ridicole tipo 150 200 copie che diventavano immediatamente rari e andavano immediatamente in classifica nei locali e nei posti come il Wigan casino dove si ascoltavano solo queste rarità anche appena uscite dal mercato e quando arrivano gli artisti grossi come Edwin Starr o Diana Ross a fare concerti erano sbalorditi dalla conoscenza che gli inglesi avevano su queste cose infatti quando io con Next One nel passato discussi della differenza tra il solo inglese e l'rmb lui mi ribadisse non mi sbaglio che era importante nell'rmb una specie di essenzialità perché effettivamente se ascoltiamo le cose americane degli anni 90 anche Lala Hathaway o anche le cose disco, disco funk del 79-80 tipo Lalo Mi Wash pur cazzo ha ragione sicuramente Next One cioè è roba essenzialissima che dice quello che deve dire ha lo stacco nel momento giusto quattro note che dicono tutto quello che devono dire gli inglesi invece sono un pochino frillettoni però il merito degli inglesi non è tanto la musica sebbene ci siano delle grandissime produzioni di soul fatte in inghilterra e faremo un episodio a riguardo adesso non ho i dischi a mano non vorrei dire inesattezze sudate e etichette però il merito degli inglesi è anche quello di aver importato in inghilterra tantissima musica che in america sarebbe finita nella patumiera perché il northern soul in america a parte qualche collezionista che ha copiato lo stile inglese non cioè fino a un certo punto non è stato considerato gli artisti americani e la gran parte di persone che in america si sono sentite chiedere cose su dischi come questo o come questo dicono ma che cazzo ci chiedete roba che non ci ricordiamo neanche noi li abbiamo fatti ma non ci ricordiamo i Dells sono un gruppo enorme sono stati sono stati interrogati più di venti volte dai collezionisti quando venivano qua in edwin star che un artista americano inizialmente su motown o meglio prima prima non so dove era diciamo nel periodo di fama più grande su motown poi su 20th century fox poi recentemente non so se era staccato dalla motown era venuto a vivere in inghilterra perché aveva così tanti fan che ha vissuto di gig cioè di concerti anche dopo che la sua fama era già abbastanza tramontata perché è considerato un mito gruppi come i crown ace affair che aveva iniziato con quel soul disco però molto profondo lo chiamavano modern soul più che disco o più che disco soul hanno proseguito a fare concerti in inghilterra ininterrottamente qua c'erano i soul weekender che ci sono ancora adesso ma negli anni 80 e 90 quando i soul weekender si ascoltavano le leggende qua sono venuti o qua sono venuti tutti a suonare i divi del blues i divi del soul e suonavano anche pezzi che in america magari non suonavano perché la audience americana magari leggermente più massificata non dico stupida però leggermente più massificata quindi 45 giri hanno soprattutto se andate a vedere rare soul.co.uk che è il sito ed il negozio di quel collezionista che si chiama john manship che nel passato emetteva e stampava liste sotto il nome di john manship lì ci trovate delle cose dei 45 giri da paura perché ci sono ovviamente molto 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 di northern soul poi lui tiene anche funk e jazz e altre cose però il genere principale suo è northern soul quindi dopo questa parentesi di northern soul appunto 45 giri perché ne ho parlato ho fatto una digressione molto ampia però è importante perché northern soul è un genere che si trova solo su 45 cioè voi ve lo scordate se fate l'audio in digitale di accedere alle librerie di northern soul alcune cose le trovate ristampate e sono anche disponibili in digitale alcune cose sono ristampate solo su vinile e altre cose non sono ristampate ed esistono solo 45 cercatevi bailio o bileo non so come lo volete pronunciare you can win un'edizione indipendente presa dall'america nel 77 che è modern soul disco o modern soul come lo chiamano qua io l'ho visto solo qua ci sono due etichette la blu e l'arancione o ad esempio party and the love lights ok erano famose in italia negli anni 70 eppure esiste un 45 giri gotta get him off with my conscience che qua è stato un tormentone per anni è stato suonato da cap d'arge da q ross da un sacco di dj modern soul che è un bellissimo disco che ha un ritmo disco però con un tiro funk e tutto un cantato che è di un soul così profondo così bello che non può non conquistare e ovviamente questa questa musica per chi la sa apprezzare qui non stiamo parlando di soul commerciale di anita baker cioè quelle sono altre cose molto belle ma non qui stiamo parlando proprio di di cose proprio quasi inesplorate perché ovviamente come tutti quanti fanno la scopata della loro vita una sola volta ne fanno tante ma quella della loro vita la fanno una sola anche party love lights hanno fatto tanti dischi ma gotta get him off got to get him off of my conscience è proprio il disco cioè proprio una ficata o come jd and the good j moving on queste sono cose che esistono solo su 45 giri per gli amanti del sole del funk ragazzi non potete collezionare soul e funk se non avete questi quelli che contano poi esistono 45 anche molto rari come halo halo h-a-l-o e non mi ricordo più il titolo del pezzo è il 45 su f team mi sembra tra altre cose era anche una cosa italiana ed è estremamente raro mille pound si diceva qualche anno fa io ho stato contattato da un paio di negozianti che avevano una copia 1200 sterline che sono qualcosa come 1300 1400 euro ma questo nel già nel nel 2001 quindi adesso se lo vuoi 2000 pound come minimo però non avevo i soldi quindi ho lasciato perdere quindi quello che mi attanaglia appunto è che nel mondo dei 45 giri e del sole in generale non cioè non se ne esce più cioè potreste veramente avere un appartamento di nove stanze tutte piene di 45 giri di sole e di funk se voleste cioè se voleste se potreste permettere ovviamente no però potendo solo permettere può fare anche quello adesso dischi ce ne se ne trovano molto meno nel 2012 molto è grasso che cola come dice un mio un mio dealer uno che mi vende i dischi e vabbè non voglio torturarvi su questo adesso per adesso finisce questa seconda parte adesso faccio un'altra terza parte però perché no ciao